Siamo alle grotte di Santa Croce a Bisceglie, sono di età paleolitica media ed è sede dell'Homo Sapiens. Sono state scoperte nel 1934 da Francesco Saverio Mai e Laro e recuperate rese fruibili al pubblico dal 1990 ad opera del gruppo scout di Bisceglie con il capo scout Mimorana con la collaborazione del comune di Bisceglie e la sopraintendenza archeologica della Puglia e l'Università di Siena. Stiamo per entrare all'interno delle grotte di Santa Croce a Bisceglie, scopriamo il mondo paleolitico. Scoperte nel 1995 a cura del gruppo scelitore di Burvese e del gruppo scout di Bisceglie. Si tratta della 25esima edizione della sagra delle grotte di Santa Croce promossa dal gruppo scout di Bisceglie con il patrocinio del comune. Presidente, un evento speciale qui alle grotte di Santa Croce a Bisceglie. Certo, siamo arrivati alla 25esima edizione e pensare che per ben 25 anni questo sito archeologico continua a funzionare ed essere un grande attrattore turistico è per noi una grande soddisfazione. Cosa possiamo vedere all'interno? All'interno è allestito un percorso museale che mette in evidenza la presenza di Neandertal nell'etapa paleolitica media, ovvero 60-70 mila anni fa, ma soprattutto la copia in resina della scoperta più eclatante avvenuta nel 1997, ovvero la storia del neolitico. L'originale trovasi presso il museo archeologico di Bisceglie, in grotte invece è stata messa una copia identica in resina. E questo è il reperto importante e classificato unicum in Europa addirittura. Presidente, è importante l'operato degli scout? Certamente, perché sono obiettivi che si raggiungono solamente con la passione, la tenacia e la forza dei giovani volontari del nostro gruppo. Cinque giorni per riscoprire il suggestivo sito archeologico delle grotte di Santa Croce, dopo anni di chiusura dovuti ai lavori di messa in sicurezza. Musica dal vivo, danze popolari, giochi per i più piccini e prodotti tipici della tradizione hanno caratterizzato la manifestazione. Musica dal vivo, u